Pronta, microfono? Capigliatura porta fortuna, quindi sei invitato. No, a parte gli scherzi, si vedeva l'ardore con cui sei prescesi in campo, è stato molto bello per i vostri tifosi. Mi viene da dire che in pochi ci credevano a questa vittoria, e quei pochi forse erano quelli che si sono allenati duro tutta la settimana e lo staff e tutta la nostra organizzazione che non ha mai dato un segnale durante la settimana di partire già da sconfitti. Ci trovavamo davanti una corazzata sicuramente da Final Four di Euroleague, perché questa è una squadra profonda, anche con Gallinari in più, però non abbiamo mollato un centimetro, forse siamo arrivati un po' con la lingua lunga nell'ultimo quarto, ma tenere una squadra a quattro punti nel terzo periodo è già a 66 in tutta la partita, anche se non hanno fatto i 30 nell'ultimo quarto è una cosa straordinaria, quindi il piano partita era ottimo e l'esecuzione di tutti i miei compagni di squadra è stata tremenda, soprattutto difensivamente. quest'anno parli capire che è una squadra molto meno perimetrale la Scavolini-Siviglia e molto più aggressiva sotto Canestro, nonostante avesse un avversario atleticamente più forte con rotazioni molto più lunghe. Questo è un obiettivo che vi siete dati e un caso adesso con Milano che abbiamo visto. Penso che le caratteristiche dei singoli giocatori portano ad un gioco più aggressivo, più verticale rispetto all'anno scorso. Ricchi ha creato veramente delle scorribande nel primo tempo attaccando sia i pick and roll che in transizione, e anche Daniele è un giocatore che ama buttarsi dentro e come sapete io prediligo anche io andare a fare le avventure in mezzo all'area, a cercare un compagno libero, un tiro, un fallo. È un gioco più fluido forse, più sciolto, però dobbiamo stare attenti perché a volte può diventare anche pasticcione. È un gioco rischioso, però secondo me è un gioco che piace ai tifosi, piace alla gente. Oggi si è vista una squadra che aveva veramente voglia di vincere la partita al primo minuto. Il rischio sono un po' le palle perse in quell'aggressività con il Terrope, ma per parere è molto possibile. Sì, sì, esatto. Dobbiamo anche pensare che eravamo corti, senza Traini e White, dopo un po' lo paghi questo gioco. Soprattutto siamo riusciti a mantenere aggressività all'attacco, ma dobbiamo renderci conto che dietro avevamo le mani piene da quando entrava Giacchetti a Radozjevic, quindi loro sono veramente lunghi e completi. In difesa dovevamo veramente stare attenti e usare ogni minimo di energia che avevamo dentro. Altro? Ti volevo dire che adesso con una settimana di pausa c'è tutto il tempo di rimettere dentro, soprattutto White, questa vittoria vi toglie anche un po' di angoscia di essere magari a zero e stare fermo una settimana e poi dover andare a Cantù. Adesso penso che anche il vostro morale e il modo di lavorare sarà diverso questa settimana. L'ho detto prima a John Ebeli, personalmente io mi sono tolto un macigno sopra la schiena perché già immaginavo partire a 0-2 e riposare una settimana e il panico che ci sarebbe stato in città. No, è la verità perché è una settimana che sento tifosi, amici che mi dicono mi raccomando dobbiamo vincere, mi raccomando dobbiamo vincere, quindi immaginati se perdiamo questa partita. Adesso sì, siamo un po' più rilassati anche perché non giochiamo questa domenica e abbiamo tutto il tempo di recuperare gli acciaccati e di preparare una partita con Cantù che non dico può essere già decisiva però è un test per valutare dove siamo sia mentalmente che di squadra. Ok, danni alla fame, lo liberiamo. A posto, buona cena a tutti.